Quando l'immancabile rassicurante mattutina fragranza di odore di caffè miscelato con olezzi di deiezioni umane viene sostituita dal pungente odore di gomma bruciata è accaduto quello che pensavo non sarebbe mai successo ovvero si vio dimenticare di mettere l'acqua nel serbatoio della moca. Per il caffè ho rimediato da Giovannina la barista che lava le sue mani solo con acqua da quasi 40 anni per garantire un aroma perfetto ai suoi 2 millilitri di caffè espresso. Per la guarnizione nuova mi sono rivolto all'Eurospin ma il dubbio che la caffettiera fosse da una o due o una e mezza o mezza tazza mi ha fatto optare per quella da due tazze per il sempre valido principio che è accorciare è più semplice di allungare. Infatti il fidato taglierino mi ha permesso di fare una guarnizione con tolleranza al centesimo di millimetro anche se il dubbio da quante tazze fosse mi è rimasto. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse iniettare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.